Finalmente conosco la Queen delle belve. Non cerchi di blandirmi. Buonasera e benvenuto. Grazie. Che belva si sente? Ma io mi sento una belva sensuale, una belva... Più che altro una belva mitologica, una belva epica, tipo un minotauro, mezzo uomo e mezzo donna. Lei mi ha cercato per proporsi a belve e io di questo la ringrazio. Perché è giusto per questo programma? Perché lei è una belva? Beh, io penso per le esperienze di vita, perché molte volte ci sono persone che fanno una vita normale. Io non ho fatto una vita normale, una vita un po' movimentata, quindi ho molte cose da raccontare. Lei ha detto che sin da giovanissimo aveva il terrore di invecchiare e questo credo sia uno dei motivi per i quali ho scelto di fare il chirurgo estetico. È riuscito ad imbrogliare il tempo oppure è invecchiato? Beh, a parte che mi vedo invecchiato, mi vedo sempre vecchio, però grazie alla chirurgia plastica ogni tanto mi hanno, sistemo qualcosa. Un giorno sistemo i capelli, l'altro giorno il viso, un po' gli addominali e si tira avanti. Senta, ma le piace quando la chiamano il chirurgo dei VIP? Ma il chirurgo dei VIP è molto riduttivo, anche perché da me sono venuti quasi tutti in tanti anni. Anche non VIP vuol dire? Anche non VIP, quindi sono il chirurgo dei VIP, il chirurgo anche della casalinga, della cassiera, del supermercato, di tutti. Poi ci sono quei chirurghi dove i VIP vanno veramente, ci sono quei chirurghi dove i VIP vengono pagati dal chirurgo per andare. Quindi molti di questi chirurghi... E da lei modestamente vengono veramente, pagano tutto, più o meno, non è sempre stato così. Qualche regalo lo facciamo pure noi. Senta, su Dago Spie invece è soprannominato il chirurgo estatico, meglio del chirurgo dei VIP. Mi piace? Anche l'estetista, mi dicono di tutti i colori. Ma l'estetista com'è? Sì, carino, mi piacerebbe, cioè non è male, faccio anche l'estetista. Fa l'estetista, fa le cerette pure, no? Ma so farle, se c'è bisogno, all'occorrenza, so fare tutto, mi piace imparare tutto. Pensi che io ho iniziato lavorando in un centro estetico, quindi collaboravo con un estetista quando avevo iniziato a fare la medicina estetica. Pensavo a medicina avesse iniziato. Sì, facevo medicina, però collaboravo anche con l'estetista, l'estetista che spingevano i clienti a fare medicina estetica. Senta, qual è il suo rapporto con la verità? È più sincero o più bugiardo? Ma io di solito sono un libro aperto, quindi quello che penso, dico e lo faccio. Ah, vabbè, quindi anche da lei ci aspettiamo la verità in questa intervista. Perfetto.